Qualche mugugno prima della benedizione del cavalcavia. I residenti restano alquanto perplessi sulla sicurezza complessiva del tratto stradale che collega il nuovo cavalcavia realizzata da rete ferroviaria italiana su via Salice e via Palmentello. Un'opera che permette di attivare la nuova viabilità nella zona a confine con il comune di Scafati, con la nuova strada che da via Palmentello garantirà il collegamento per via Salice e viceversa. L'apertura del cavalcavia ferroviario coincide con la chiusura dei passaggi a livello presenti nelle due arterie di confine, un tratto che snellirà ulteriormente il traffico veicolare sulla ex strada statale 18, già molto alleggerita con l'entrata in funzione dello svincolo della strada statale 268 in località Bagni. Un progetto nato nel 99, quindi 20 anni fa, grazie all'interessamento dell'amministrazione dell'epoca per garantire che rete ferroviaria italiana potesse in qualche modo eliminare in un progetto di livello nazionale le intersezioni, i cosiddetti passaggi a livello che interessano i centri abitati. Noi qui ad Angri avevamo sia quello di Corso Vittorio Emanuele che quello di via Palmentello. Le opere sono in parallelo a quelle realizzate per il sottopasto di Corso Vittorio Emanuele che collega la nazionale. In pratica viene sostituito in alternativa all'attraversamento ferroviario una strada con un sottopasso e un passaggio pedonale che verrà realizzato anch'esso con un sottopasso. Negli anni è stata seguita la logica della posizione della nostra comunità, del nostro territorio. In pratica è un territorio di intersezione che funge da cerniera tra le diverse sedi viarie e tra le diverse tipologie di mobilità, tra strade, ferrovie e quant'altro. In seguendo questa logica negli anni sono state realizzate, sono state progettate e adesso arrivano a compimento alcune opere che consentono proprio un riammagnamento complessivo. Si pensi che la 268 è una strada che collega la 3 con la 30 per cui la sua apertura prevista secondo le dichiarazioni dei tecnici dell'ANAS entro la fine di quest'anno, al massimo la primaria dell'anno prossimo, appunto consentirà di poter accedere tramite l'autostrada a Langri, all'autostrada a Trenta e viceversa a Palma Campania. Quindi un ammagnamento, un collegamento, una serie di realizzazioni di opere di intersezione che favoriranno certamente una maggiore fluidità del traffico, soprattutto con riferimento al traffico pesante. Grazie a tutti.